Eccoci di nuovo qui per un nuovo video del sabato, sono tornato con un nuovo tutorial guardando la price action su uno strumento che nella mia watch list è rimasto per anni, ma che negli ultimi periodi non ho più tenuto, anche se ogni tanto lo osservo e tendo a capire cosa sta facendo. Il cambio in questione è dollaro Canada, quindi USD contro Canadian dollar, in questo caso sempre grafico settimanale, quello che andremo a fare è sempre andare a lavorare sul replay passato, quindi facendo una prova di quelle che sono le nostre regole, del nostro metodo di trading applicate al mercato in quel momento senza ovviamente vedere quello che c'è dopo. Io sinceramente anche se faccio trading da tanti anni non posso ricordare in tutti gli anni che cosa è successo e quindi sarò scevolo da qualsiasi giudizio e pregiudizio più che altro sul mercato. Quindi andrò a prendere questo mercato che comunque non è un mercato semplice, a livello di Forex secondo me non è mai stato un mercato semplicissimo possiamo dire, quindi vediamo un po' come andrà, profitto perita che sia. Comunque questo video è fatto più che altro per farvi, per trasmettere, per farvi arrivare più che altro l'approccio, l'atteggiamento, il modo di gestire il rischio, il modo di aprire una posizione, dove posizionare gli stop, dove targetizzare, quanto dura un'operazione eccetera eccetera. Quindi vado a prendere sempre il replay, come sempre mi giro da quell'altra parte, faccio un po' su e giù, poi un po' su e giù, clicco e vediamo dove sono arrivato. Stiamo al 30 agosto 2010, perfetto, grafico weekly, quindi partirò da qui e insieme andiamo a vedere un po' come si muoveranno i mercati. Adesso segno dei livelli, perché ovviamente la prima cosa da fare quando io mi trovo di fronte al mercato è capire un attimo che cosa sta facendo e su che livelli ci troviamo di prezzo a livello storico. Quindi io noto, sto guardando questa parte qui, vedete qui c'era un range, quindi a questo punto questo range va osservato, va guardato, vado a inserire questa linea, poi ci metto anche quest'altra e queste sono le prime due aree importanti. Poi andando a prendere la parte alta, perché adesso qui mi parli di vedere un range o comunque un semi range, ed è tipico questo, su questo tipo di mercato, almeno dai miei ricordi. Prendo un po' tutte queste zone, tanto per averne almeno 5-6 di aree buone, direi che da un punto di vista di medio periodo su grafico settimanale mi trovo con dei livelli abbastanza chiari sul grafico. Eccoli qua. Per quanto riguarda la struttura, nel breve stiamo in una compressione di vola, arrivavamo da una tendenza short, quindi in questo momento bisogna essere un po' attenti. Quindi diciamo che c'è questa ultima dinamica dell'ultimo periodo che fa pensare di più a un possibile movimento verso la parte bassa di questo range, 1,02 e 30, 1,02. Quindi per quanto mi riguarda il piano per la prossima settimana, quindi adesso io andrò sul daily, come avrete visto negli altri tutorial, e se non li avete visti vi invito a andarli a vedere, proprio perché sono sicuramente interessanti. L'idea è quella che nei prossimi giorni su grafico daily andrò a ricercare esclusivamente posizionamenti short, qualora ci saranno le opportunità. Qui c'è un livello, quindi devo avere un posizionamento short sicuramente che mi deve arrivare su un'area che mi permetta lo spazio, che abbia lo spazio, e quindi mi permetta di fare un certo tipo di movimento. Vediamo, questo ovviamente sarà venerdì, andiamo. Lunedì non c'è nulla, non si fa nulla. Martedì recupera, ma il mio piano è esclusivamente short su questo mercato, quindi non faccio nulla. Questo è interessante perché il mercoledì si crea una dinamica di annullamento del movimento rialzista con una ulteriore volatilità, quindi viene coperta completamente la barra precedente. Ecco, io in questo caso potrei pensare di fare un trade di brevissimo termine con obiettivo qui. Allora, il paracadute va messo qua, lo stop, il mio entry potrebbe essere qui. C'è poco spazio rispetto al paracadute, però vista la dinamica, la possibilità che si scenda, statisticamente è molto più facile che si scenda e si vada verso questo livello, e quindi anche a fronte di un rapporto di rischio reward preventivo molto, molto, come dire, a sfavore, se vogliamo, anche se non lo guardo in maniera così, appunto, come si vede qui, in maniera troppo rigida, io in questo caso andrò a vendere su questa dinamica, che è una pinbar in due giorni, se vogliamo, doppia candela, cercando di prendere profitto su questa zona. Quindi quanto vendo? Non venderò troppo. Io ho la vendita qui con un paracadute qua sopra del 3,40%, di 350 pips, con la possibilità di andare a fare target qui. Quindi io personalmente 370-380 pips su questo trade, io non ci andrei a mettere più di 20k, scusate, quindi 20.000, vuol dire andare, eccolo qua, ad avere, vi faccio vedere, uno stop in dollari canadesi di 750 dollari canadesi, vediamo se me lo mette, ok, che significa circa 600 dollari americani, più o meno. Però vabbè, teniamoli in canadesi, fate conto che i dollari canadesi sono poco maggiori, quindi più o meno è questo. Anche qui è 1,03, quindi diciamo che si nota. Più o meno è la stessa roba, dai, in quel periodo storico valeva più o meno 1 a 1, quindi diciamo 780 dollari, dai, 750 dollari. Bene, vediamo, questa era la giornata di mercoledì, vediamo giovedì. Giovedì continua la fase, vediamo se mi va a fare il movimento il venerdì. Venerdì tiene, però è interessante, vediamo il weekly come chiude. Ecco qua. Il weekly chiude con una convalida della tail bar, anche doppio massimo lower, quindi mi conferma la mia view, mi dà l'idea che ci potrebbe essere nei prossimi giorni l'arrivo verso l'area 1,02, quindi al momento non cambio nulla, mantengo la view short e mantengo anche il mio trade. Come vedete, chi è una delle prime volte che viene qui su questo canale e vede quello che sto facendo, io lavoro prettamente su grafici weekly, daily, ok? Quindi weekly è la mia analisi della struttura, daily vado a lavorare sulle conferme, sulle dinamiche che possono essere interessanti nel breve e medio periodo. Vediamo lunedì. Lunedì si continua la fase ribassista, vediamo se arriviamo su questa zona, che è la zona target. Io ho un livello a 1,02,30, diciamo, tutta quest'area che passa per di qua. Bene, abbiamo una tail bar, 195 dollari canadesi, non voglio, non mi aspetto troppo da questo trade, anche se dovesse scendere di più, al massimo riprendo uno swing, quindi chiudo la mia posizione e incasso 195 dollari canadesi, perché in questo caso non mi aspettavo di più, se poi rimbalza al massimo lo prendo su un ulteriore swing, ok? Vedete qui, in questo caso non ho basato la mia operatività sul fatto che avevo un paracadute molto ampio rispetto al rischio, che ripeto, io non guardo più da anni la questione del rischio-reward in maniera troppo, troppo severa e rigida, ma guardo più che altro anche la possibilità che quel mercato possa fare o meno quel tipo di movimento in base alle dinamiche strutturali da price action, no? Quindi, questa un po'. Allora, ci siamo, stiamo al martedì, la mia view comunque è only short, quindi il mio piano prevede solamente posizionamenti short, nel caso in cui ci siano conferme, questa indecision bar potrebbe o far continuare il movimento magari verso questa zona di 1.01.50, oppure creare uno swing low con la rottura del massimo e quindi in ottica di ritracciamento. Vediamo che succede. Mini pin bar, FTV, non facciamo nulla, non si fa nulla venerdì c'è questo recupero, con questo doppio minimo higher, il livello lo ha sentito, andiamo a vedere il weekly che cosa ci dice, ecco, il weekly rimane ancora incastrato su queste aree, quindi rimane incastrato tra l'1.02 e l'1.07, che sono questa compressione di vola, non c'è moltissimo da dire, sinceramente, io in questo caso vi direi flat, vi direi flat perché prima c'era questa situazione, così, magari non succede, però per quanto mi riguarda una situazione del genere, sapete cosa mi dà l'idea che possa accadere dopo anche tanta esperienza? Mi dà l'idea che ci possa essere nuovamente la rottura del massimo e poi la discesa, ok? Quindi in questo caso io rimango ancora short, non sto flat, rimango short, però ovviamente devo avere una chiara impostazione short, una rottura dei massimi settimanali recupero, che sul daily stramute in un buon trigger, potrebbe essere l'idea. Quindi only short nuovamente, quindi il fatto che il daily adesso crei questo doppio minimo higher, mi dà l'idea che possa esserci il ritracciamento, ma che possa essere buttato giù. Nel caso lo facesse, lo fa con volatilità interessante, con un trigger che mi piace, potrei pensare di andare anche a vendere, anche se siamo nei pressi di questo livello. Andrei a segnare questo anche, quest'area 1, perché può diventare sia a livello tondo, storicamente 1, a livello di parità, che non è solo su Dollar Canada, in generale su qualsiasi coppie di valute, può essere interessante andare a vedere questo livello. Stiamo parlando di mercato delle valute, quindi il Forex, che non è come il mercato azionario, seppur poi le dinamiche di price action sono pattern ricorrenti, ma dobbiamo sempre capire anche dove siamo, e il fatto che il Forex è quotato a coppie, e che quindi questa cosa, e soprattutto coppie di valute, quindi due economie, che devono dare un prezzo di cambio a quella valuta di quell'economia in quel momento. Quindi cerchiamo sempre di entrare nel mood anche del tipo di mercato, perché è molto importante vedere questo. Io sono un forexiano, il mercato del Forex è il mercato che io amo di più, e che ho tradato di più, e che faccio da sempre, da quando ancora qui in Italia, veramente non c'era nulla, vi assicuro che io, si parla, io ho 43 anni in questo momento, trado ormai da tantissimi, da 18, e i primissimi broker sul Forex che venivano in Italia, erano proprio i primissimi, e quindi si parla veramente degli albori, e il Forex mi ha cambiato proprio la mia view, la mia vita anche in realtà, ed è il mercato che preferisco proprio per la sua linearità, per la sua tecnicità, rispetto anche al mondo nazionale. Comunque, detto questo, doppio minimire, vediamo un po' che cosa succede. Questo abbiamo detto è venerdì, quindi partiamo con lunedì. Lunedì non rompe i massimi, rimane inside, quindi compressione schiacciata, non faccio nulla su questo tipo di setup. Rompemi, quindi non rompe l'aumento i massimi come io pensavo, sta addirittura a cercare i minimi nuovamente, martedì, però non dà nessuna situazione. Rompe i minimi, rompe i massimi, quindi significa che ha rotto anche i massimi settimanali, quindi interessante. Vediamo se c'è l'aumento di vola sotto, o sopra, perché adesso stiamo a mercoledì, quindi non si fa nulla in questo momento. Rompe nuovamente i massimi il giovedì, non dà trigger operativi. Bello, eccolo qua quello che volevo vedere. Questo è quello che volevo vedere, un FTV Power, che rompe i massimi qui, bam, e che ci dà l'opportunità di vendere, soprattutto se si rompe qui ovviamente, quindi adesso valuterò di entrare se rompe, e cercare l'area 1. Questo potrebbe essere l'obiettivo. Però prima di fare qualsiasi analisi, andiamo a vedere come ha chiuso il weekly, e poi decidiamo. Allora, il weekly vedete è ancora chiuso al di sopra, però è abbastanza negativa la dinamica. Siamo abbastanza vicini ancora all'ultimo swing weekly, direi molto vicini, sia in fascia temporale che in fascia di prezzo, e ha rotto i massimi della settimana scorsa, che mi piace questa cosa. Li ha rotti, e ha chiuso vicino, comunque nei pressi dell'area bassa di questo range, di questa lateralità, di questo box. Quindi, la price action mi dice, outside bar, nei pressi minimi, ribassista, rimango S, rimango short, sul mercato, e potrei già pensare di tradare il setup FTV Power, una delle mie strategie proprietarie, che si è venuto a creare venerdì. Ma siccome qui non ho la possibilità di vendere stop al di sotto dei minimi, guardo il lunedì cosa succede. Lunedì, viola i minimi mattiene. Adesso vediamo ancora il martedì. Martedì fa una pin bar ribassista, vediamo se viene giù ancora, se viene giù ancora, lo vendo. Non viene giù, nel senso che viene giù ma recupera, quindi chiusura daily che non mi piace, tiene ancora il livello, quindi non si fa nulla. Nulla. Giovedì, tail bar, tail bar, quindi tiene ancora il livello, non si può fare nulla. E qui, si opererà short, direttamente a mercato. Chiude sotto, il weekly, ci conferma, guardate un po', quella che è la dinamica settimanale, bellissimo, e ci dà la possibilità di andare verso il basso. comprendete quanto è importante la pazienza? La pazienza è importantissima, non solo nel mio tipo di trading, che è un trading weekly daily, quindi sulle posizioni si sta qualche giorno o qualche settimana e bisogna avere la pazienza, ma anche sul trading diverso, cioè tutti i tipi di trading hanno bisogno di pazienza. Io ovviamente qui adesso sto facendo solo trading su dollaro Canada, però nel mio trading poi ho svariati mercati e quindi se un mercato per qualche settimana non è pronto, ce n'è un altro che è pronto, quell'altro poi non è più pronto, vado su quell'altro che è pronto, ovviamente non faccio un mercato solo, questo è ovvio, altrimenti sarebbe poi difficile riuscire a lavorare in modo costante. Allora abbiamo detto che vendo, sì vendo, la vendita si fa direttamente qui, il paracadute lo andrei a porre sempre intorno ai 380-350 pips, ancora metterei più o meno 20k, direi di sì, cacciamo 20k, quindi due minilotti, lo stop loss lo mettiamo sempre qui di 750 dollari canadesi, più o meno stiamo sui 700 dollari americani, e vediamo qui se riusciamo a metterci, andare verso il target in area 1, vediamo un po', vediamo un po', lunedì. lunedì recupera un pelo, stiamo dentro, bello, conferma con ritracciamento e una rottura dei massimi poi feicata, quindi assolutamente interessante, in questo caso una cosa del genere, se dovesse essere mantenuto al ribasso, sicuramente abbasserà il mio rischio, andiamo a vedere. Bene, abbassiamo subito il rischio, sbang, quindi 390 dollari canadesi, circa 400 dollari canadesi, equivalenti a circa 360 dollari americani, almeno a livello dell'epoca, forse anche qualcosa in più, 370, siamo quasi a 1, quindi è quasi 1 a 1 il rapporto, diciamo, di cambio, quindi sta continuando, vediamo se c'è qualche livello qui su cui andare a lavorare, c'è un minimo, lui tiene il minimo, potrebbe avere un po' di recupero, ma tengo la posizione senza, cioè il cambio l'ho già fatto, perché ho modificato il mio stop, mercoledì, recupera il mio livello il giovedì, sto dentro, vediamo venerdì, bello, quindi vedete come non era efficace, funzionale andare a break even, perché avrebbe ritestato, il break even è un buon modo per gestire la posizione, ma bisogna avere la pazienza di attendere, perché il mercato non va subito direttamente dove si vuole, ok? Va magari, ma poi deve ritracciare, questa è una bella conferma, che se avessi più spazio potrei anche decidere di incrementare, questo però è venerdì, quindi aspetto la weekly, la weekly conferma con la chiusura sotto, e adesso tutto quanto ci sta dicendo che potrebbe arrivare tra area 1,0034, e anche sotto 1,09980, 09990, rimango only short, Questa è una bella tailbar FTV, quindi vediamo se viene giù, non ancora, bene, stoppo qui, quindi 95 canadesi, continua a swingare, vediamo un po', bello, movimento che va verso i minimi, mi permette di, tac, andare a BE, vediamo cosa succede qui, quindi adesso leggeremo il prezzo, cercheremo di capire se ha senso uscire e quando, vediamo, bello, mercato che fa una indecision, indecision su cui io sinceramente potrei uscire, visto che è sul livello 1, e ha fatto una rottura dei minimi, guardate un po', minimi 0,9980, esco, chiudo la posizione, bam, e incasso altri, cosa sono, 400 dollari canadesi, 350, adesso non mi ricordo, più o meno, questo, quindi incasso il movimento, quando ha rotto, io ovviamente avevo questa come, questo era il setup madre, questa FTV Power, ovviamente sulla struttura settimanale, ho aspettato che rompesse, e che mi facesse un'idea di conferma, ma rompe con questa candela di volatilità, entro short, si muove, porto a casa, ok? Questa è un po' l'idea. Andiamo avanti, quindi, questo giorno era questo, era il giovedì, quindi aspettiamo il venerdì, lui recupera, come un po' potevamo pensare, qui c'erano dei livelli, andiamo su weekly, eccolo qua, weekly che anche su weekly, guardate, crea un indecision bar, anche, abbastanza volatile, insomma non è una candela volatilissima, però comunque dà, no? Uno spazio abbastanza ampio, e arriva proprio sull'area 1, dove da qui, dobbiamo attendere, perché potrebbero esserci dei rimbalzi, che potrebbero essere ributati giù, oppure potrebbero essere poi, di ritorno long, attenzione, perché a area 1, abbiamo detto, 1 a 1, prezzo di cambio, è sempre una zona di equilibrio, una zona importante, dove potrebbero poi ritornare i compratori, quindi, cioè dove potrebbero esserci nuovamente interessi, quindi cosa faccio? Io, in questo caso, specifico, dopo una situazione del genere, attendo e rimango flat, quindi la settimana prossima, non farò nulla, e aspetto di vedere un po' cosa ci dice il mercato, vediamo un po', tutti i giorni, quindi vado abbastanza veloce, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, bene, c'è il recupero del livello la settimana dopo, quindi io, nel mio piano flat, non avrei comunque fatto nulla, il mercato ha recuperato, quindi abbiamo fatto bene, vedete, a portare a casa questo breve movimento, comunque di svariati giorni, 1, 2, io sono entrato qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giorni, comunque, di mercato, si è saliti, il mercato sta swingando, sono due inside, queste, di questa mother bar, siamo su quest'area, questa è una zona comunque di interesse short, lo vedete, questo, questa era stata, vedete, buttato giù tutto, è dove abbiamo venduto, bam, e qui nuovamente tiene, quindi adesso dobbiamo un po' valutare, ma essendo venerdì, si va a vedere sempre il weekly, il weekly ci sta dimostrando la, il rientro sul livello precedente, è ovvio che arriviamo da una gamba short, che probabilmente ha testato più o meno, con i massimi almeno del 50%, o forse qualcosa in più, della gamba short, in una situazione del genere, sinceramente, potrei pensare di mettermi long, come posizionamento, ma anche short, perché, perché dovesse mai creare una falsa, qui potrebbe essere interessante di vendere, quindi sono, col mio piano, LS, long short, in base a i trigger, buoni, di qualità, che ci si veranno a creare, durante la prossima settimana, ok? Vediamo un po' che succede. lunedì, non si fa nulla, martedì, inside, mercoledì, si sale, giovedì, è molto in compressione, come potete vedere, venerdì, si sta fermi, tutto consolidato, tutto schiacciato, di base, non ci può, non si può fare, nulla, direi, prendo la palla al balzo, per, tra l'altro, prima di continuare questa analisi, per invitarvi, tutti quanti, chi vuole essere dei nostri, al, corso online, quindi, tutto online, del prossimo 18 maggio, ovvero, oggi è il 3 maggio, che io sto registrando, voi vedrete il video domani, che è il 4 maggio, quindi, eh, avete una quindicina di giorni, forse qualcosa in meno, per iscriverti a questo corso, il costo del ticket è bassissimo, potete iscrivervi, e se cliccate, andate sul sito, yearforex.com, e cliccate il banner, che trovate in home page, troverete tutte le info, dei vari ticket, inoltre, se volete, e siete, insomma, vi piace, siete appassionati, del price action trading, o vi state appassionando, sapete che qui, su yearforex, trovate la persona, e ormai, con anche i miei colleghi, Antonio, Damiano, e tutti quanti, quelli della community, personalmente, questo canale, è vivo dal 2010, ho sempre, trasmesso, questo tipo di trading, la price action, più nuda e cruda, più vera, e ho scritto, svariati ebook, negli anni, e la consacrazione, arriva adesso, con un, libro fisico, di carta, che potete trovare, direttamente, dal sito trading library, anche qui, basta che andiate sul sito, in home page, preordina la tua copia, c'è già la possibilità, di preordinarli, il 15 maggio prossimo, tra qualche giorno, uscirà il libro, guadagnare sui mercati, con il price action trading, se volete capire bene, e meglio, tutte queste cose, tra l'altro, qui ci sono anche, delle ore di lezione, che ho creato, dentro al libro, quindi avete la possibilità, a metà maggio, di concentrarvi, e di, come dire, formarvi, in maniera più approfondita, con il corso, più il libro, dedicato alla price action, fatto, da yearforex, bene, torniamo un attimo, sulla nostra, sulla nostra cara price action, abbiamo venerdì, quindi, che il mercato, era rimasto, in congestione, e questa è il weekly, weekly, che ci mostra, una inside bar, un inside bar, che mantiene, si mantiene sul livello, però, direi, che al momento, vista la dinamica, long di recupero, è vero che butta giù, non fa falsa rottura, io rimarrei, un po' come prima, quindi rimarrei, sia long che short, su questo mercato, proprio perché, la dinamica strutturale, mi sta indicando questo, quindi, long short, che significa, attendiamo, un, una conferma di trigger, sapete cosa mi piacerebbe qui, più che lo short, vi dico, mi piace questa gamba, e questo, e questa, dinamica di, congestione, se dovesse, bam, aumentare la vola, io qui, comprerei, su questa zona, e cercherei di portarmi, magari, su questa zona, il profitto, quindi, la zona, comprare la zona, tra 1,0350, 1,0410, 0,0420, per andare verso, lo 1,0650, 1,07 al massimo, come, estensione, vediamo un po' che succede, però, perché, quello che dico io, non è detto che avvenga, se crolla giù, non credo che andrò a vendere, aspetterò, devo capire, mi piacerebbe, se non di più, al massimo, vendere false rotture di questo, quindi, bam, bam, questo, allora sì, potrei vendere la, vediamo, lunedì, viene giù, vediamo se è un fake, potrebbe essere un fake di questi, e recupero, vediamo un po', lunedì, no, scende, martedì, niente, mercoledì, giovedì, e venerdì, nulla da fare, il mercato è sceso, quindi adesso stiamo messi così, mercato che crea swing, la settimana 18 ottobre 2010, stiamo su livelli di minimo, al momento si appoggia lì, abbiamo dei livelli anche più bassi, che ho segnato, area 0,98 e 30, 0,93 e 20, seguiamo lo short a questo punto, lo swing è appena iniziato, quindi, il long adesso si cancella dalle nostre idee, si tiene solo un'idea short, e vediamo un po', se ci darà appunto, qualche, eh, info migliore, lunedì, tiene, inside bar, martedì, inside fake out, però io ho una view only short, quindi non posso fare il long, non lo farei comunque, ma comunque, non c'è la possibilità, mercoledì, inside bar black, però, eh, io non le vendo su così le inside bar, quindi non, non farò nulla, aspetterò, abbiamo giovedì, che il mercato rimane lì, e venerdì recupera, quindi il weekly, vediamolo un po', ci mostra questa dinamica, dinamica esclusivamente di tenuta, su un livello che abbiamo capito essere importante, però io, con un mercato del genere, che ha solo un po' ritracciato, su una dinamica short di continuazione, rimarrò con il mio piano operativo only short, solamente short, quindi andrò esclusivamente, a accettare, trig short, su grafico daily, va bene? Namo. Ok, lunedì, wow, martedì sale nuovamente, vedete, non è così, no, non è così scontato, e per quello bisogna essere pazienti, lavorare di qualità, mercoledì, giovedì, tiene livello però, non stiamo di fronte a una price action, di un certo tipo, venerdì inside, vediamo un po' il weekly, come chiude, il weekly adesso si sta incastrando, in un ulteriore range, chiamiamolo così, qua sotto, non ci sono sinceramente operatività da fare, quindi io, rimango dell'idea short, nel senso, non c'è, un recupero di questo livello pieno, che mi porterebbe ad essere bullish, ad essere long, per i cinque giorni successivi, di mercato aperto, quindi la settimana successiva, ma, mi testa il livello e lo tiene, quindi per me, rimane l'idea short, in ottica di, eh, piano operativo, vediamo, lunedì fa una indecision FTV, che potrebbe portare su, ma io non compro, perché non ho il piano long, porta su, martedì, bello, mercoledì conferma il mio short, sinceramente, e qua, e qua, vendo, vendo, perché conferma la mia idea, mercato che addirittura, tra l'altro, la cosa bella, ha fatto un falsino qua sopra, questo è un falsino, eh, molto, molto, così, 1,02, 61,6, 1,02, 64, a me piace, vendo, adesso vediamo quanto e come, andrei a portarmi sempre, su un'idea dei 380 punti, circa, quindi 380 dollari, ci teniamo sempre sotto i mille dollari di rischio, intorno agli 800, 7,800, teniamo sempre i 20k, facciamo uno stop loss, abbiamo detto, di 800 canadesi, ma anche un po' meno, secondo me, no, no, andiamo un po' sopra, 1,05,15, mi piace, 830 canadesi, circa 800 dollari americani, quindi stiamo più o meno lì, e vediamo un po', allora il primo livello ovviamente rimane questo, però il tipo di struttura adesso si sta sempre più consolidando per scendere, quindi vediamo se il mercato scende o risale, ovviamente poi dovrò gestire se questo sale, come sempre, quindi, mercoledì, vediamo, giovedì fa bassa vola, mi potrei aspettare un recupero di vola anche di area 101,70 per ricoprire questa parte, perché prima di partire dopo una vera del genere potrebbe andarsi a rigestire questo livello, per poi, no, fare questo, ma io sto dentro, e via. qua mi prende tutta la vola precedente, quindi attenzione, dovrò gestire, però vediamo, questo è un venerdì, quindi andiamo sul weekly, e il weekly, guardate un po', al momento rimane al di sotto di questo, però ancora all'interno del livello, il livello per me è importante, diciamo che è questa zona, no, ho il paracadute qua apposta, però dovrò capire di gestire, potrei ancora accettare un ulteriore massimo, ma poi deve iniziare a scendere, perché se no si taglia la perdita, ovviamente, vediamo, lunedì, lunedì tiene il livello, ovviamente va a testare e tiene, quindi bene, vediamo se ritorna sui suoi passi, no, sale e chiude sopra, però attenzione, questo per me, allora vediamo se riesco a, sì, faccio così, questa è l'area chiave, quindi vediamo di capire un attimo, martedì, vero? Mercoledì, mercoledì sfalsa i massimi, quindi massimo, massimo più alto, leggero, massimo più alto, boom, bello questo qua, questo è molto bello, questo è mercoledì, vediamo un attimo, eh, eh, allora, tengo un attimo la situazione là, dove l'avevo messa prima, più o meno qua, più o meno qua, aspetta, qui, più o meno, questo livello, però se adesso da qui mi ritorna a, quindi questa è la grande volatilità, questa diventa una falsa rottura, se viene confermata la rottura al minimo, ancora di più, anche se già questa crea lo swing, quindi secondo me, ci ritorniamo a Brier, e ci ritorniamo a prezzo di carico, abbasserò il mio rischio, quindi falsa rottura, ritorniamo in profitto, abbassiamo notevolmente il rischio, con uno stop di la metà della mia posizione, 400 dollari, siamo vicini e nei pressi di questa zona, è giovedì, quindi aspettiamo il venerdì di vedere cosa succede, venerdì fa un indecision, vediamo il weekly, bellissimo, weekly conferma, vedete, essere sempre, Paracadute ci permette di lavorare in questo modo, essere sempre attenti, perché il mercato è fatto così, allora, quando si dice, si usa spesso il termine psicologia del trading, in realtà non è proprio psicologia, però se vogliamo c'è anche questo fattore, la psicologia del mercato più che altro, più che del trading, diciamo che quando si dice che il 90% lo fa la psicologia nel trading, c'è questo detto, in maniera molto gergale, anche forse scorretta, però per farmi capire cosa voglio dire, è la verità, cioè il mercato vive di finte, vive di movimenti che fanno buttare fuori le altre persone, fanno uscire proprio l'impulsività, invece noi dobbiamo essere razionali, pazienti, aspettare, avere un piano, sono queste le cose che fanno del trader poi la costanza, il fatto che usi lo stop paracadute e che magari possa incrementare, che vada a rischiare poco, poi magari possa mediare anche però nella pianificazione, e quindi nella gestione del rischio stiamo all'interno, tutte queste dinamiche sono dinamiche che magari non si leggono molto nei libri o nei corsi, però che noi divulghiamo da tempo e che è una via, non è l'unica, ma è una via buona per interpretare bene il prezzo e soprattutto non farsi catturare proprio dalle trappole classiche del mercato, che sono molto, che giocano molto di psicologia, ok? Quindi attenzione, la settimanale adesso è bellissimo, mi crea un ulteriore conferma sul weekly un doppio massimo lower, quindi non esco sul livello e provo a vedere se va un po' più giù e mi crea un movimento maggiore, ovviamente stando sempre molto attento. Vediamo, un po' rischioso ma più affattibile vista la price action sul weekly. Vediamo. Lunedì ritracciamento, martedì nuovamente ritracciamento, mercoledì, stiamo lì, giovedì, stiamo lì, mi sembra che siamo giovedì, no? Sì. Venerdì, stiamo lì, quindi indecision, inside, bla bla bla, ritracciamento classico di una situazione di questo tipo, io ora mi aspetto il movimento, sinceramente. Ho un lieve ritracciamento iniziale ma poi il movimento. Questo è quello che mi aspetto, quindi adesso magari va a riprendersi questi massimi, può essere che si vada a riprendere queste aree, qui queste chiusure e questi massimi, ma non voglio che vada sopra. Vediamo. Non va al momento lì, questo è lunedì, martedì, fa il 6 massimi e sta dentro, ritorna sui minimi il mercoledì, adesso va a deve rompere però, perché ecco, un'altra cosa è, mi va una volta, mi va svariate volte, mi va un'altra volta, mi va questa, adesso mi deve rompere, ok? Mercoledì. Non rompe, giovedì, rompe sopra, attenzione, venerdì mi chiude che non mi piace tantissimo, vediamo il weekly, questa chiusura non è bellissima, allora non è bellissima perché? Perché fa il 6 minimi, vedete, precedenti, si rirecupera, però stiamo ancora in una zona vendibile, cioè lui potrebbe ancora andarsi a prendere queste chiusure e poi scendere, allora non esco così obbligatoriamente adesso, ma l'idea è quella di uscire, quindi o adesso qui mi mostra debolezza o esco, vediamo, vediamo, attenzione, aspettiamo, martedì, mercoledì, giovedì, una cosa del genere, cosa mi fa fare? Boom, tac, mi fa spostare nuovamente il mio rischio, perché, vedete, il livello di presa di liquidità, no? Di presa di interesse short qui, perché qui c'era l'interesse, e quindi è lì dove, tra questo livello e questo livello, dove c'erano la possibilità che lui ritracciasse, lo sta facendo, ritorno a BE, mi sposto nuovamente, dagli 800 dollari di rischio iniziali, siamo a 2,45, vediamo se ritorniamo qui, se stavolta rompe, vediamo, non è detto, qua potrebbe recuperare, quindi poi al massimo usciamo, giovedì. Bene, venerdì chiude nuovamente, falsa rottura dei massimi, quello che ci aspettavamo, 24 dicembre, giornata un po' così, però noi ovviamente dobbiamo anche lavorare su questo, quindi vedete, conferma della dinamica, il doppio massimo lower, io qui sinceramente ragazzi, io mi aspetto adesso, da qui a poco, un movimento verticale, o comunque un movimento di trend, almeno di 2-3 giorni, verso il basso, ok? Già lo sta facendo, quindi magari mi potrei aspettare, se scende subito, una tenuta nuova, ma che non diventa una tenuta con ritracciamento ampio, ma una tenuta solo di qualche giorno, per poi crollare, quindi, venerdì, lunedì, 27 dicembre, oh, questo, 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 quindi, martedì 28, compleanno di mia figlia più giovane, mercoledì 29, mi fa fare questo, mi sposto a BF, e voglio vedere se adesso mi rompe, giovedì 30, venerdì 31, che è anche il mio compleanno, nel 2010, compivo 30 anni, che bello, 30 anni, mi sembrava di essere vecchio, 30 anni, adesso dico, ma no, vorrei tornare a 30 anni, vabbè, venerdì 31 dicembre, mi fa il regalo di compleanno, e, vediamo un po', quindi, tutta la price action, come l'avevamo, vista, come l'avevamo studiata, come l'avevamo interpretata, va tutto bene, diciamo che adesso, dobbiamo stare un po' attenti, siamo su questi minimi, siamo vicini qua, io direi che, a questo punto, rimaniamo only short, gestiamo un po' la dinamica, vediamo se non viene recuperato, subito il livello, o meno, vediamo un po', lunedì, lunedì si riscende, fa una tail, che potrebbe riportare i prezzi, verso area 1, attenzione, perché siamo sotto area di parità, potrebbe avere, questa sorta di, ricerca di questo livello, guardate un po' che succede, adesso qui noi, abbiamo un movimento, di vola molto ampio, vedete, movimento di vola molto ampio, quindi io da questo, con questa tail bar, da un punto di vista operativo, mi potrei aspettare, mi potrei attendere, un recupero, ha senso rimanero, è meglio capitalizzare, questo movimento, non c'è una via unica, dipende un po' dalla situazione, dipende dall'amministrazione, dipende da quello che sto facendo, in questo caso qui, mercato unico che ho, dico, è più facile che lui ritracci, che mi dia un ulteriore trigger qui, quindi incasso tutto questo movimento, chiudo la posizione, vado a prendere altri 350 dollari circa, e aspetto di vedere poi, che cosa succede se swinga, se non swinga, pazienza, va giù, e va bene, andiamo a vedere, swinga, come si pensava, martedì 4 gennaio, va a restituire, la rottura, se la va a riprendere, quindi va a restituire il favore, della rottura, vediamo un po', se adesso, da martedì, mercoledì o giovedì, dovesse fare, ecco, qui fa un inside, cosa che mi aspettavo, che andasse a ritestare questo livello, rientrasse, quindi, tutto molto tecnico al momento, non ho avuto, avete visto, rispetto anche ad altre situazioni, ho avuto molto chiara la situazione, ma non perché l'avevo vista prima, perché era molto tecnico in queste fasi, e tutto sta andando proprio come pensavamo, quindi, in questo caso, mercoledì 5 gennaio, non si fa nulla, giovedì, vediamo un po', venerdì, venerdì, bella conferma, potremmo, in effetti, vedere un movimento, adesso vediamo come chiude il weekly, il weekly è messo così, e ormai sembra tutto pronto per arrivare verso il basso, mi metto only short ancora, ma non faccio nulla, lunedì vediamo, lunedì si mantiene inside, martedì scende un po', mercoledì scende, giovedì tiene, e qui fa una bella pinbar, il venerdì 14 gennaio, però, vedete, non tutte le pinbar sono, no, quello che noi vogliamo vedere, la volatilità sul weekly si sta un po' rallentando, si sta un po' calmando, non c'è una rottura falsa del massimo settimanale precedente, quindi, l'ultimo massimo settimanale sfalsato è questo qui, che poi aveva, creato, no, aveva dato il là al movimento, e poi tutti i massimi sono decrescenti, non c'è mai stata questa rottura, quindi continua a rompere i minimi, a seguirli, questo abbassamento di vola, mi dà l'idea che ci possa essere, una congestione, magari il leggero ribasso, però questo, quindi questa cosa qua, mi fa essere flat, per i prossimi giorni, non trado questa pin, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, oh, vedete, non trarre tutte le pin è importante, ecco perché, dico sempre che la price action non può essere automatizzata, perché non lo può essere, dobbiamo ragionare in base a quella che è, l'analisi della struttura, nella struttura c'è l'analisi della volatilità anche, quindi attenzione sempre, poi, qui su questo canale trovate un mare di video nella playlist, corso gratuito, gratuito price action, dove parlo anche di questo tema, nei corsi all'interno del sito di Airforex, sulla volatilità e su tutti i temi della struttura, per come la vediamo noi, ovviamente, vengono discussi ampiamente. Comunque, questa è un FTB Power, venerdì 21 gennaio, il settimanale aveva bisogno, vedete, si vedeva che si stava iniziando a, ad avere una fase di più calma, è stato rotto leggermente il minimo, rotto il massimo, il corpo è all'interno del range precedente, il mercato rimane così, rimane ancora sotto, anche qui direi che al momento, personalmente, non sono molto dell'idea, perché vedete, qui c'è un minimo storico, comunque, poi c'è un minimo più basso, però sembra quasi che abbia bisogno di un'ulteriore candela, prima di fare qualcosa, short, quindi lo short non mi piace, il long al momento è probabilmente troppo prematuro, è troppo anticipatorio, quindi, personalmente, per fare una buona posizione ho bisogno di altro, quindi, piano, F, flat, ancora, sto fermo, non trado questa power, vediamo un po', lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, si rompe i massimi, rimaniamo lì, vedete che già adesso inizia a essere già meglio, allora io quello che vedo qui, è la possibilità che il mercato possa rompere questi livelli e li capire, perché se li rompe e tiene, si potrebbe ripensare a un long verso queste zone, se invece li rompe e li butta giù, questo diventa uno swing buono, la volatilità è rientrata, e siamo nel timing più giusto per rientrare short su questo mercato, quindi andremo a vedere un po' che succede. lunedì, sto flat ancora, martedì, bello, bello, sono flat però io, mercoledì, giovedì, venerdì, allora, vediamo un po' il weekly, adesso, adesso siamo su una situazione diversa, siamo sui livelli di minimo, però la dinamica è un doppio massimo low, è un FTV, quindi si è creato uno swing, che adesso vedremo se sarà high o low, però si è creato, e questa dinamica mi permette di essere short adesso, col mio piano operativo, per i prossimi giorni, quindi vediamo un po' se ci darà degli spunti. lunedì, inside bar, martedì si sale, mercoledì inside, sarebbe bello che andasse a ritestare questa zona, e qui sbombe nei giù, con volatilità, diventerebbe interessante. Siamo a mercoledì. Giovedì, mini pin, bassa vola, oh, questo è bello, questa è la conferma che cercavamo, aumento di vola il venerdì, con un weekly che probabilmente ci sta confermando la possibilità di scendere nuovamente, eccolo qua, qui abbiamo dei minimi, e qui abbiamo un livello importante a 0,93. Quindi, a questo punto direi che abbiamo la nostra conferma sul daily, io provo questo ultimo trade, ormai direi, perché stiamo quasi a un'ora di... Stiamo sempre su una situazione uguale a prima, sempre 20k, con uno stop sopra 1,0250, quindi vendo, stop a 1,0270, 1,02 così, 800 dollari, e vediamo se rompe il livello e va. Bene, stiamo lì, niente, ok, vari testari minimi, mercoledì, dopo tre giorni, giovedì sente ancora un po' il livello, bisogna stare molto attenti su queste aree, vediamo venerdì che succede, venerdì tiene il livello un po' sfalsandolo, però la volatilità rimane bassa, è stato convalidato lo swing high settimanale, il mio stop, guardate anche su settimanale, è molto ampio, ci permette di essere molto tranquilli, addirittura anche poter incrementare anche in una pseudo mediazione sopra, o, se ovviamente se la conferma, o comunque anche sotto. In realtà qua ci sarebbe uno spazio enorme, però vediamo, vediamo. Questo è venerdì. Bene, lunedì si riscende, adesso qua sarà da gestire la situazione, sto al momento ancora così e vediamo. Me lo aspettavo, che lunedì è sempre un giorno particolare, e spesso contrarian anche, però comunque il martedì recupera in volatilità, va bene, stiamo sotto i livelli, stiamo dentro. Pimbar, mercoledì, se riscende forte, sposto il mio stop. Riscende forte, sposto il mio stop. Tac. 297 dollari, ne sto guadagnando 92, vediamo se scende che giorno è questo mercoledì, no, giovedì addirittura, ora vediamo un po', venerdì. Bello. Venerdì chiude bene, guardate come chiude pesante, con ulteriore sfalso dei massimi settimanali, recupero, spostamento del mio stop, comunque uno stop di 369, quasi un terzo, quasi un terzo, era 800 dollari, quindi quasi un terzo del valore iniziale, vediamo, mi segnerei questi minimi, sinceramente, perché comunque sono minimi importanti, questi livelli qua, 0,9750, me lo segno, per avere un'idea di dove inizialmente lui potrebbe fermarsi, questo è il daily, vediamo un po', se vedo sul daily, sì, sì, è questo, il livello è qua, ok, e poi c'è quello sotto, in realtà ci sono anche delle zone qui, e poi altre, c'è anche quest'area qua, di blocco ce ne sono, comunque senza avere troppo, senza stare troppo a, guardare troppo in basso, perché poi stiamo in profitto, qui c'era una conferma che ci ha permesso di abbassare il nostro rischio, stiamo a venerdì, vediamo lunedì, bellissimo, lunedì ci permette di andare a break even più qualcosina, direi, quindi 310 dollari canadesi, vediamo adesso, perché si potrebbe con la volatilità alta iniziare a pensare anche di uscire dal mercato, sapete cosa vedo qua? Si può uscire, però vedo più che possa fare questo, fa questo e rientra, e poi va qui, allora in quest'ottica, visto che oggi ottime operazioni, abbiamo fatto molto bene, rischiando pochissimo, stiamo a B, e proviamo a vedere se fa sta cosa qua, e vediamo se andiamo su questo livello, o comunque vediamo, aspettiamo di vedere se rompe qua, per me lo fa la rottura qui, fa un ritracciamentino, vediamo, oggi non è sbaglio una, però sono in the zone, come diceva Mark Douglas, allora, eccolo qua, se mi rompe ovviamente vado a portare a casa, vediamo, giovedì, venerdì, inizia ad abbassarsi la vola, questo non è un ottimo segnale, perché potrebbe avere un recupero più ampio, andiamo a vedere il weekly, il weekly è già bello pieno, potrebbe esserci un ritracciamentino di questa zona, mi piacerebbe riuscire a portarlo a casa qui, sinceramente, rimango short, e allora aspetto di vedere un po' il daily, se continua a consolidare al di sotto, perché se continua a consolidare al di sotto, ci può stare il movimento, vediamo, consolida lunedì, martedì fa un ulteriore, FTV, un mini, sempre schiacciata sui minimi, mi dà l'idea che ci possa essere questo boom, e così poi io chiuderei la posizione, vediamo, martedì, mercoledì mi permette di abbassare notevolmente ancora il mio rischio, andando a bloccare il profitto a 165 dollari canadesi, vediamo, mi recupera, mi recupera, questo non è il massimo, il giovedì, vediamo il venerdì, allora siccome mi ha preso, perché io mi ero spostato, qui devo chiudere la posizione, mi avrebbe preso un po' più su, la chiudo così, tac, e la porto a casa, perché in realtà sarebbe stata chiusa lì, quindi se non sarà magari 1163, magari ne portavo a casa 1000, questi 100 in più, forse ci sono circa 100 in più, perché ha fatto questo, ne avevo portati a 100 e rotti, però insomma sarebbero 1000 più o meno, bene, questo adesso il venerdì, adesso noi chiudiamo il video, però il venerdì con una chiusura del genere, ecco vedete il weekly che fa un altro massimo, mi dà l'idea che almeno inizio settimana, possa andare verso lo 0,9650, e poi magari ritracciare, attenzione perché sta iniziando ad esserci volatilità alta, sul weekly, e questo potrebbe riportare un swing maggiore, però mi dà l'idea che questo, almeno in prima battuta, va da qui, vediamo se lo fa, non lo fa, no, guardate, recuperone, quindi vedete com'è importante andare a spostare anche gli stop, aumento di vola, qualsiasi market mover, potrebbe essere c'era da qualche notizia, qualsiasi cosa, mercato salito, quindi avete visto com'è importante, martedì, finiamo la settimana, mercoledì, giovedì, venerdì, quindi venerdì si chiuderebbe così, e un weekly del genere, eccolo qui, vedete che va a riequilibrare i prezzi, come dicevo prima, rientra a questi livelli importanti, magari da qui potrebbe esserci anche un po' di recupero dei minimi, e magari il mercato potrebbe ritornare ancora verso il 1.02.30, per esempio. Bene, allora, abbiamo detto tutto, abbiamo fatto un bel tutorial, ne uscite anche ancora delle altre belle operazioni, devo dire che questi tutorial escono sempre delle belle, belle dinamiche, sia didattiche che come operazioni, proprio, dei bei movimenti, poi ogni mercato, io sto prendendo mercati differenti, perché comunque ogni mercato ha un po' le sue caratteristiche, seppur ho fatto principalmente sul mondo del Forex, però abbiamo visto anche degli indici, l'oro, il petrolio, insomma, poi li rivedremo, alcuni li rivedremo anche, quindi non ci sono problemi. Allora, vi ricordo, come dicevo prima, se volete partecipare il 18 maggio a questo corso online, che sarà anche registrato, se prendete alcuni ticket, hanno la possibilità di registrazione, più alcuni bonus, quindi il Presection Trading Day, corso online, sabato 18 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, di mattina, quindi sabato, opposta perché molti di voi così riescono a partecipare live, e se ancora non l'avete fatto, prenotate il libro, Guadagnare sui mercati con il Presection Trading, che uscirà nei prossimi giorni, un libro su cui sto lavorando da un anno e mezzo. Bene, grazie a tutti, io vi auguro una buona, un buon fine settimana, una buona settimana di Trading Simple, e noi ci vediamo ai prossimi video in questo canale. Ciao.